E' tutto da giocare Pontevomano Giulianova con i padroni di casa in formissima vogliosi di bissare il clamore contro la capolista mentre gli ospiti provano a rimettersi in corsa dopo gli schiaffi in faccia del mercoledì nero con le immagini di Maria Carannante andiamo a vedere cosa è accaduto in campo nel primissimo giro di lancette contatto sciarretta toure per l'arbitro non ci sono gli estremi per fermare il gioco al quarto il tiro al volo di federico di paolo che approfitta di una respinta corta della difesa palla vicinissima all'incrocio nono minuto disattenzione difensiva giallorossa occasione per Polisena che però colpisce male per la raccolta facile di Boccanera ventiduesimo Persiani approfitta di un rimpallo ma risolve tutto Gava con tempestività e con l'attaccante che rimane a terra nel contrasto mezz'ora Giglio per Persiani che però scarica alto e a lato dopo tre minuti il retro passaggio corto di Rinaldi sul quale rimedia Boccanera in out laterale ed evita l'intervento del rapace Polisena un primo tempo con molta quantità giallonera che costringe il Giulianova ad arrangiarsi con mestiere e la ripresa si apre con due occasioni per i padroni di casa che prima con Ture manda altissimo e poi Polisena che salta e sciarretta ma manca clamorosamente lo specchio Cerasi fiuta il pericolo e manda dentro le noci e cappelli Ture e Polisena sono controllati meglio ma sempre assolutamente temibili al ventunesimo Ture è debole a colpire di testa da posizione favorevole il Giulianova si fa vivo su rovesciamento di fronte prima Persiani e sul seguito Barbarossa prova il tiro ma senza il giro ancora Giulianova al ventiseiesimo sassata di Giglio che con il sinistro va fuori di pochissimo poi è il momento di Polisena che su assist di Ture va vicinissimo al gol lo ferma solo il palo il Pontevomano ha dato tutto i giallorossi provano con Traini forse un po' egoista ma il risultato rimane inchiodato sullo 0 a 0 Cerasi alla fine si tiene il punto Piccioni la prestazione assolutamente superlativa mister un palo due occasioni clamorose tanta intensità ci avete provato in tutti i modi sì credo che era la prestazione che dovevamo fare se volevamo portare a casa un risultato positivo perché comunque giocavamo con una squadra che era forte ed è rimasta forte oggi forse è stato meno forte per la bravura del Pontevomano perché credo che forse ai punti avremmo meritato qualcosina in più del pareggio però la prestazione dei ragazzi è stata sontuosa ci hanno provato anche negli ultimi minuti nonostante a livello fisico non ne avevamo più ma a livello mentale soprattutto a livello di cuore è stata una partita veramente importante da parte nostra quanto c'è di Piccioni in questa squadra ma io faccio l'allenatore come dico sempre a loro cerco di trasmettere le mie idee ma io sono lo stesso allenatore delle prime sette partite dove perdiamo sempre quindi non penso che ero un brocco prima e non penso che sono bravo adesso andiamo avanti per la nostra strada credo che una buona squadra che adesso ha capito che cosa significa giocare determinate partite raggiungere l'obiettivo desiderare di arrivare a qualcosa di straordinario per noi perché se si parte da sette partite zero punti il campionato è cortissimo con la prestazione d'atteggiamento di oggi mi fa rimanere fiducioso per il proseguire il campionato allora mister oggi non era facile perché si veniva da una situazione psicologica precaria situazione fisica anche diciamo che è un punto che giuliano si tiene stretto sì sicuramente ce lo teniamo stretti per quello che abbiamo visto in per quello che ho visto in campo ripeto il ponte pomano è una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà in assoluto gli altri 0 a 0 sono completamente diversi da questo tipo di 0 a 0 e loro hanno fatto bene ci hanno dato fastidio in ogni zona del campo non non ci hanno fatto giocare praticamente quasi mai quindi è un punto che mi tengo stretto che dopo la situazione vissuta in settimana la terza partita in una questa settimana e soprattutto per tutte tutte le manganze a livello di giocatori che per me non è una cosa da poco mi tengo stretto questo punto sicuramente una settimana può bastare per recuperare mentalmente i giocatori anche qualcuno qualche infortunato la cosa che mi preoccupa di più che vorrei di più che rientrano prima possibile gli infortunati e poi a livello psicologico ci lavoreremo ci staremo attenti durante la settimana abbiamo una settimana tipo questa settimana ed è importantissimo però la cosa che mi preoccupa di più è recuperare prima possibile gli infortunati